è arrivato il marzo tempo bello vado a passeggiare e qui una vista panoramica di fiume il monte maggiore che sovrasta fiume questo fiume era il confine tra l'italia a sinistra e la jugoslavia a destra fino al 1943 e per il trattato di rapallo del 1920 primo giorno di apertura dei bar all'aperto nel mezzo del cammin mi trovai eccetera eccetera se l'uomo perde il bosco si perderà anche lui alla fine della breve passeggiata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti